Come è andato questo primo giorno della settimana? Beh, penso che per donne e uomini d'azione come noi non sia stato semplice. Perché? Perché ci manca quel contatto umano quotidiano, quelle azioni costanti da fare. Però penso che possiamo immediatamente trovare delle soluzioni. Rispondendo a questa domanda, che servizio possiamo dare oggi ai nostri clienti? Essere in contatto con loro, stare in contatto con le persone. Questo è il primo servizio. E da dove possiamo partire? Beh, possiamo partire magari dall'acquirente. Perché in questo momento possiamo dedicargli ancora più tempo, possiamo capire le sue esigenze e possiamo organizzare delle visite dedicate virtuali con il cliente. Perché possiamo fare una videoconferenza, gli possiamo proporre degli immobili, vedere insieme a lui delle foto o il virtual tour e magari anche fissare un appuntamento per il futuro. Per esempio, proprio a Milano lo stanno facendo e un appuntamento virtuale che è stato fatto pochi giorni fa, il cliente alla fine dello stesso era entusiasta e voleva subito vedere l'appartamento. Naturalmente lo si è fissato per quando sarà possibile. Insomma, subito si vede che le persone nel momento in cui gli si dedica del tempo, chiaramente lo apprezzano e in questo momento noi dobbiamo dedicare del tempo in maniera spassionata. Allo stesso modo, questa cosa qui la potremmo raccontare ai nostri proprietari, cioè chi ci ha già affidato l'incarico di vendita, raccontargli le iniziative che stiamo facendo con chi deve comprare casa. Contestualmente lo potremmo raccontare anche a chi ci doveva affidare un incarico di vendita e anche a lui potremmo raccontargli come ci siamo organizzati e cosa stiamo facendo. Perché ora è il momento di ascoltarci e di dare la vera consulenza da agenti immobiliari. E allora, rispondete pure nei commenti, scrivete nella chat, condividiamo quello che accade nello sperimentare questa modalità. Vi auguro una buona giornata e a presto!